E' la vigilia della partenza per Trieste dove domenica sera, palla 2 alle ore 19.30, l'Epicasa Brindi si affronterà all'Allianz di coach Eugenio Dalmasson per la quinta giornata di campionato, terza trasferta dopo quella di Venezia e di Bologna contro Reggio Emilia. Con sei punti in classifica i bianco-azzurri si godono il secondo posto insieme con Reier e Dinamo Sassari alle spalle dell'imbattuta Olimpia Milano e coltivano il sogno di allungare la striscia vincente per consolidare l'attuale posizione. Troppo presto per parlare di traguardi, a cominciare dalla qualificazione per la Final 8 di Coppa Italia, però c'è grande soddisfazione nel club del presidente Nando Marino per questo eccellente avvio. Il match di Trieste, posto che si ha già tempo di parlare di esami di maturità, rappresenta comunque un banco di prova significativo per le potenzialità e soprattutto le aspirazioni stagionali della squadra di coach Frank Vitucci, che in settimana ha lavorato intensamente per preparare al meglio la trasferta in terra giuliana, pensando anche al successivo impegno di Champions League con il San Pablo Burgos in programma mercoledì 28 ottobre. Ma siamo certi che la partita sarà regolarmente disputata, che la squadra partirà da Trieste alla volta della Spagna per l'esordio nel mini girone di qualificazione della Kermesse europea. Nel club spagnolo si sono verificati alcuni casi di positività al Covid-19 e sarà quindi la FIBA a decidere il da farsi, proprio sulla base di questa allarmante situazione. Brindisi può solo aspettare le determinazioni della Federazione Internazionale. Di certo la partita di campionato con Mursia in programma domenica prossima non sarà giocata e se nei successivi accertamenti il numero dei positivi salisse, salterebbe anche la partita di BCL con Brindisi, perché il San Pablo potrebbe ritrovarsi con meno di otto giocatori disponibili. In caso di annullamento della partita, l'Epicasa tornerà in Puglia pensando già al successivo match interno con la fortitudo Bologna degli ex Meo Sacchetti, coach per una stagione, e soprattutto di Adrian Banks, che tornerà nel Palapentassuglia e vedremo dinanzi a quanti spettatori dopo una esperienza indimenticabile in bianco-azzurro. Nel pomeriggio alle 16.45, coach Frank Vitucci farà il punto della situazione durante la videoconferenza con i giornalisti attraverso la piattaforma Zoom.